Non si può entrare, perché non si può entrare. Questa si chiama chiesa di San Giuseppe. Questa è la chiesa di San Giuseppe. Andando di qui troviamo la portiera della camera rustica, quelli sono molto ristrutturati, gli alberi più vecchi di loro. Queste casette sono ovviamente ristrutturate, e il tempo dove c'è la casa di Ballaretto c'era un bar e c'erano tutte delle case dei contadini. Infatti tutti i contadini usavano questa villa per lavorare la terna o comunque per svolgere le attività di casa loro, per la loro stacuzione. Entrando ovviamente troviamo la rimessa. Quello è il tuo...